sul finire degli anni 50 nel mercato del fumetto giapponese si stavano affacciando i primi autori che portavano una vera competizione a quello che era lo strapotere del dio dei manga osamu tezuka che come abbiamo visto nel primo episodio dal post guerra fino appunto a quasi la fine degli anni 50 era stato il numero uno in contrastato del manga nel 1959 l'industria del fumetto giapponese era in piena crescita una crescita dovuta a diversi fattori il primo era sicuramente la rinascita economica che il paese stava vivendo per la prima volta dopo la fine della seconda guerra mondiale mentre il secondo era che finalmente coloro venuti al mondo nel periodo del boom delle nascite post bellico avevano l'età per leggere fumetti se da una parte una piccola rivoluzione veniva dal manga più underground per adulti il gekiga che abbiamo affrontato nel secondo episodio quasi contemporaneamente una rivoluzione stava avvenendo anche nel fumetto giapponese per i più piccoli il manga stava ricevendo sempre più attenzioni anche grazie alla progressiva diffusione nelle famiglie di radio e televisione che si contendevano voracemente gli adattamenti dei fumetti più popolari attratte dal successo di opere come la serie televisiva con attori in carne e ossa tratta da astroboidio e zamutezuka andata in onda proprio nel 1959 fu in quel momento che gli editori si resero conto che un mese la cadenza delle riviste dell'epoca era ormai diventato un tempo enormemente lungo per i ragazzini giapponesi che invece in tv potevano seguire le avventure dei loro eroi settimanalmente proprio per non rimanere indietro rispetto alla concorrenza televisiva i due editori principali dell'epoca shogaku kan e kodansha decisero che era giunto il momento per una grande rivoluzione nel business del manga il primo dei due colossi editoriali fondato l'otto agosto 1922 era stato da sempre concentrato sulle pubblicazioni per bambini partendo proprio come editore di libri educativi il secondo la cui fondazione era addirittura risalente al 1909 quando aveva un altro nome che fu cambiato in kodansha nel 1958 era inizialmente un editore generalista che spaziava da riviste dedicate a vari hobby sino alla pubblicazione di dizionari i due colossi editoriali decisero quasi all'unisono di creare delle riviste settimanali di fumetti per ragazzi gli shonen manga e sin da subito tra di loro si venne a creare una feroce rivalità entrambi volevano primeggiare su questo nuovissimo mercato ed il destino li voleva uno contro l'altro tanto che le loro riviste finirono per debuttare esattamente lo stesso giorno il 17 marzo 1959 al costo di 30 yen a cambio attuale poco più di 20 centesimi gareggiarono duramente anche per avere sulla copertina un famoso giocatore di baseball sport nazionale giapponese e dalla fine a spuntarla fu shogaku kan che si aggiudicò per la copertina della rivista chiamata weekly shonen sunday niente meno che shigeo nagashima bandiera degli yomiuri giants di tokyo dove militò per l'intera durata della sua carriera dal 1958 al 1974 oltre a questo simbolo dello sport in copertina la rivista di shogaku kan poteva freggiarsi anche del simbolo del manga tra i mangaka ospitati sul primo numero del sunday troneggiava infatti osamu tezuka oltre ad artisti del calibro di fujiko fujio nonostante il nome la rivista usciva di mercoledì proprio come la sua rivale il nome sunday infatti veniva da un'idea di uno degli editor di shogaku kan dell'epoca che voleva trasmettere la sensazione che i lettori della rivista leggendola si sentissero rilassati come se fossero nel pieno del weekend poter contare su questi grandi nomi dava sicuramente un vantaggio al sunday rispetto alla rivista diretta concorrente uscita come abbiamo visto anch'essa il 17 marzo 1959 ovvero weekly shonen magazine della kodansha il primo numero del sunday vendette 300.000 copie numero impressionante per quegli anni mentre la rivale di kodansha si fermò sulle comunque ottime 205.000 copie negli anni 60 il successo dei settimanali esplode definitivamente su weekly shonen sunday amichevolmente chiamato semplicemente sunday fanno capolino grandi autori come mizuteru yokoyama e fujio akatsuka oltre ai già citati osamu tezuka e fujiko fujio il primo successo di yokoyama le cui origini abbiamo già visto nel primo episodio sulla rivista di shogaku kan fu igano kagemaru pubblicato dal 1961 al 1966 protagonista di quest'opera ambientata nel periodo edo è kagemaru un ninja di iga agli ordini di attori anzo che viaggia per tutto il giappone combattendo contro gli avversari della famiglia tokugawa il manga ispirato dai romanzi a tema ninja di futaro yamada molto in voga nel periodo precedente alla pubblicazione pone le basi per l'immagine del ninja con costume nero che vedremo poi in decine di opere successive e catturò l'attenzione dei bambini giapponesi grazie alle battaglie a più uomini che vi erano contenute molto dinamiche per l'epoca un'altra caratteristica innovativa di questa serie era che il design variava molto a seconda delle situazioni assumendo toni quando drammatici quando più tondeggianti altro grande successo di mizutero yokoyama fu giant robot pubblicato sulla stessa rivista dal maggio 1967 al marzo 1968 al centro del manga troviamo le oscure macchinazioni della società segreta big fire che vuole conquistare il mondo perseguendo il suo piano gr per contrastarli l'agenzia investigativa delle nazioni unite invia diversi agenti l'asso nella manica delle nazioni unite è da isaku kusama un ragazzo in grado di comandare tramite la sua voce il possente giant robot incredibile colosso tecnologico creato da suo padre questo fa compiere un passo avanti al genere mecha giapponese rispetto ad una delle precedenti opere dello stesso yokoyama padre del genere dei robot giganti ovvero tetsujin 28 go dove il protagonista poteva sì comandare un enorme robot ma solo attraverso un telecomando il successo di giant robot fu tale che dal manga nacquero poi una serie tv lanciata poco dopo la pubblicazione su rivista due serie animate una del 1990 ed una del 2007 oltre a vari sequel spin off e remake a fumetti come vi dicevo poc'anzi di mizuterro yokoyama vi ho parlato più ampiamente anche nel primo episodio di questa serie un autore a cui invece ho solo brevemente accennato in quel video è fujio akatsuka simbolo assoluto del manga comedy in giappone tanto da essere ricordato come il gag manga king e purtroppo pressoché sconosciuto all'estero akatsuka nasce il 14 settembre 1935 a re in manciuria figlio di un militare giapponese che vi era in servizio dopo la fine della seconda guerra mondiale la famiglia torna in giappone e il ragazzo passa la sua adolescenza tra le prefetture di nigata e nara la famiglia akatsuka già segnata dagli orrori della guerra in vari modi al rientro in giappone non viene accolta benissimo ed il ragazzo subisce atti di bullismo a scuola l'unica cosa che riesce a farlo divertire ed estranearlo dal duro mondo reale sono i manga e mentre frequenta le scuole elementari viene totalmente scioccato dalla lettura di lost world opera facente parte della trilogia fantascientifica del giovane osamu tezuka e nonostante la rigida educazione del padre militare che non voleva assolutamente che il figlio si dilettasse con cose tanto frivole come la lettura dei fumetti decide di diventare un mangaka la sua vita ha una svolta decisamente positiva quando fa amicizia con un ragazzo della sua scuola anch'esso appassionato di manga come lui e i due cominciano a creare le prime rudimentali opere come ken chan del ristorante di sushi il ragazzo continua a disegnare incessantemente e a 12 anni scrive un'opera sci-fi di 128 pagine chiamata diamond island finite le scuole medie yokoyama non prosegue gli studi a causa dei problemi economici della sua famiglia e inizia a lavorare in un negozio che produceva insegne cinematografiche grazie a questo lavoro oltre a migliorare la sua arte può andare gratuitamente al cinema ogni volta che vuole e prendere così ispirazione dai film visti in particolare gli rimangono molto impresse le pellicole di charlie chaplin in quel periodo inizia ad inviare le sue piccole opere all'angolo dei lettori della famosa rivista manga shonen dove venivano esaminate da artisti del calibro di osamu tezuka al compimento dei 18 anni si trasferisce a tokyo e mentre lavora in un'azienda farmaceutica continua a mandare le sue tavole alla rivista una delle sue opere viene notata dal leggendario shotari shinomori oltre che da yoshiaru tsuge futura leggenda del gekiga proprio tsuge lo incoraggiò ad intraprendere la carriera come professionista dopo la chiusura di manga shonen e akatsuka firmò un contratto con l'editore akibono shupan proprio grazie all'intermediazione di tsuge per questo editore debutta nel giugno del 1956 con il volume arashio koete akatsuka desina tantissimi manga tanto da venire accettato quello stesso anno come coinquilino nel leggendario condominio tokyo aso leggendario stabile di cui abbiamo parlato nel primo episodio che accoglieva all'epoca molte future leggende del manga come osamu tezuka la sua carriera però non decolla subito akatsuka per qualche tempo va avanti pubblicando un manga shoujo per le librerie a prestito ogni tre o quattro mesi e ad un certo punto va vicino a mollare tutto per tentare la carriera come attore di cabaret riuscì a resistere grazie alle parole ed agli aiuti dei suoi colleghi principalmente moto o abiko del duo fujiko fujio l'autore quindi non molla il colpo e nel 1958 inizia una collaborazione con shotaro ishinomori con cui scrive diversi manga per ragazze lo stesso ishinomori raccomanda akatsuka alla redazione di manga king dell'akita shoten e nel dicembre di quello stesso anno l'autore pubblica sulla rivista nama chan che durerà fino al marzo del 1961 il suo successo esplode nel 1962 quando su weekly shonen sunday inizia la pubblicazione di osomatsu kun opera che accompagnerà l'autore fino al 1967 sulla stessa rivista per poi essere ripresa più volte anche su riviste diverse l'opera è un gag manga che segue le vicende di una famiglia molto numerosa come quella dello stesso autore e in particolare dei sei gemelli osamatsu karamatsu choro matsu ichimatsu jiuishimatsu e todomatsu i sei indossano tutti gli stessi identici vestiti perché la madre era solita dire che se acquisti la stessa cosa in mezza dozzina di unità ti farà risparmiare denaro protagonista principale è osomatsu un bimbo molto stravagante e sfortunato che vive insieme ai suoi cinque fratelli gemelli i sei hanno dieci anni frequentano la stessa scuola e vanno solitamente d'accordo in particolare osomatsu e charamatsu un bimbo molto intelligente ma altrettanto egoista questa particolare affinità tra i due li fa mettere spesso in contrasto con gli altri fratelli oltre a questo molte gag scaturiranno dagli scontri con iyama ed il suo assistente chibita il fatto che i sei gemelli siano tutti innamorati della stessa ragazzina poi aiuterà a creare moltissime altre gag fra di loro osamatsu kun che nel 1964 si aggiudica il decimo shogaku kan manga award sarà una delle serie di punta della rivista e ispirerà diverse serie animate oltre che tantissimi oggetti di merchandising ovviamente nessun autore era legato a contratti a vita con uno specifico editore e infatti uno dei più grandi successi di akatsuka arriva proprio sulla rivista rivale del sunday ovvero weekly shonen magazine della kodansha tensaiba kabon questo è il nome dell'opera aglieterà i lettori del settimanale di casa kodansha dal 1967 al 1976 diventando un enorme successo che darà vita nell'arco di 30 anni a ben 3 serie animate televisive per un totale di 216 episodi il protagonista di questo manga è bakabon un ragazzo pestifero sempre intento a far danni specialmente nei confronti di suo padre un signore problematico che cercherà di prendere il controllo della serie per diventarne il protagonista gli altri personaggi che daranno vita alle innumerevoli gag dell'opera sono ajime chan fratello minore di bakabon e bambino prodigio e sua madre il padre di bakabon divenne una delle più grandi icone dell'universo manga di fuji akatsuka tanto che lui stesso si presentava sovente con dipinti baffetti caratteristici del suo personaggio scomparso il 2 agosto 2008 dopo anni di vegetazione in ospedale a causa di un'emorragia cerebrale l'autore rimarrà nella storia come il re assoluto del gag manga proprio due dei mentori di akatsuka furono tra le colonne portanti dei primi anni del settimanale shogakukan hiroshi fujimoto nato l'uno dicembre 1933 a takaoka e moto abiko nato a dimmi il 10 marzo 1934 meglio conosciuti con il nome d'arte collettivo di fujiko fujio o con i nomi d'arte che i due usavano per firmare le opere realizzate in solitaria ovvero fujiko f fujio per fujimoto e fujiko fujio a per abiko i due nacquero entrambi nella prefettura di toyama ad un anno di distanza l'uno dall'altro e la loro amicizia nasce davvero molto molto presto il caso vuole infatti che entrambi frequentino le stesse scuole elementari nella città di takaoka dove abiko nota subito fujimoto disegnare su un quaderno nonostante i due inizialmente nascondessero la propria passione per il disegno da amici e compagni di classe per la vergogna questa passione in comune li farà diventare grandi amici durante le scuole medie sono entrambi immensamente ispirati dalla lettura di shinta karajima di osamutezuka e poco dopo creano il primo rudimentale manga insieme chiamato tenkuma insieme costituiscono un fondo postale dove versare i loro risparmi per poter acquistare il materiale da disegno ed iniziano a spedire le loro opere giovanili ai concorsi aperti ai lettori da riviste come la più popolare dell'epoca manga shonen i due continuarono a dividersi equamente spese e ricavi per tutta la durata della loro carriera insieme nel 1951 mentre frequentano le scuole superiori fanno il loro debutto ufficiale sul mainichi shogakusei shinbun con la storia chiamata tenshi notama chan e nello stesso anno fanno visita a colui che era per loro la più grande fonte di ispirazione il maestro tezuka il maestro si complimenta con i due che gli avevano mostrato le illustrazioni per il loro fumetto su ben ur e pensa che i due avranno davanti una luminosa strada nel mondo del manga osamu tezuka ancora una volta non si sbagliava affatto abiko disse in seguito che il maestro tezuka aveva un'aura così potente che sembrava brillare di luce propria i due dopo questo incontro illuminante prendono ancora più sul serio la loro passione per il manga e decidono di adottare uno pseudonimo comune che inizialmente era tezuka fujio proprio in onore del papà di astro boy ma che venne poi cambiato perché pensavano fosse troppo azzardato usare uno pseudonimo che richiamasse così da vicino il loro idolo nonostante la loro carriera come mangaka si stesse avviando i due decidono comunque di trovarsi dei lavori una volta diplomati pur senza mai smettere di scrivere nuove opere ed iniziano a scrivere sotto il nome di fujio a shizuka purtroppo la loro prima serie insieme viene interrotta dopo pochi capitoli ma si rifanno con un manga pubblicato poco dopo chiamato utopia saigo no sekai taizen una serie fantascientifica di ambientazione post apocalittica che come tutti i loro primi lavori subiva una pesante influenza dai lavori di tezuka e da alcuni comics americani come quelli di anna e barbera nel 1954 si spostano a tokyo dove costituiscono un'associazione di mangaka chiamata shin mangato il nuovo partito dei manga con altri colleghi artisti come hira o terada poco dopo si trasferiscono nel leggendario condominio tokyo aso dove iniziano a scrivere un numero impressionante di opere arrivando fino a sei serie pubblicate mensilmente purtroppo per loro questo ritmo è talmente massacrante che bucano molte delle loro scadenze e questo fa loro perdere credibilità agli occhi degli editori quindi per un periodo decidono di lavorare separati per ricaricare la spina lasciano il tokyo aso nel 1959 e nel 1963 fondano insieme a shotari shinomori shinichi suzuki kyoichi tsunoda e giro tsunoda lo studio zero al quale si aggiunse successivamente anche fujio akatsuka qui trovano un ambiente molto fertile per la loro creatività e nel 1964 iniziano a pubblicare una serie su weekly shonen sunday che si guadagnerà ben tre trasposizioni animate obakeno kyutaro è la storia di uno yokai kyutaro che vive nella famiglia oara e che si diverte a svolazzare in giro spaventando la gente e rubando cibo la sua unica paura sono i cani nonostante il fantasmino protagonista di quest'opera abbia tutte le caratteristiche comuni ai fantasmi come volare e attraversare i muri ha delle grosse difficoltà con le trasformazioni e questo provoca spesso situazioni divertenti dato che nonostante i suoi sforzi quasi tutte le sue trasformazioni lo fanno diventare un paio di calzature un'altra caratteristica che poi sarà quasi trademark di fujiko fujio grazie al successo di un'opera successiva sono le due grandi tasche sulla pancia di kyutaro nelle quali lui e i suoi amici umani possono nascondere di tutto l'opera è un gag manga che getterà le basi per molte altre opere del duo in singolo o collaborative con un personaggio e molti comprimai che girano intorno a lui per creare delle gag sempre nuove e divertenti la serie principale terminata nel 1973 avrà un grande successo tale da meritare due sequel a fumetti oltre a tre serie animate per la tv un videogioco pubblicato nel 1985 da bandai per ness e due film d'animazione rilasciati rispettivamente nel 1986 e nel 1987 mentre i due sono al lavoro insieme su kyutaro portano avanti anche le loro carriere in singolo moto abiko pubblica dal 1964 al 1968 sempre su shonen sunday la serie ninja attori kun conosciuta anche in italia per la serie animata chiamata nino il mio amico ninja l'opera ha per protagonisti kenichi misoba e kenzo attori rispettivamente uno sfortunato bambino di 10 anni che frequenta le scuole elementari con scarsissimi risultati ed un giovane ninja i due fanno amicizia e kenzo presto si trasferisce nella casa di kenichi insieme a suo fratello shinzo attori e al suo cane ninja shishimaru come spesso capita nelle opere del duo attori è il protagonista entrato a sorpresa nella vita di un bimbo in difficoltà e che si metterà tra virgolette al suo servizio aiutandolo a superare tutte le difficoltà che può avere un bambino di quell'età oltre alle avventure dei due amici seguiremo anche la rivalità tra attori kun ed il suo arci nemico kemumaki kemuzo anche lui abile ninja con al seguito il gatto ninja kage chiyo la loro rivalità è fomentata dal fatto di avere in comune l'amore per la stessa ragazza yumeko il successo dell'opera portò alla realizzazione di un anime di ben 694 episodi da 5 minuti ciascuno che tv asai trasmise dal 28 settembre 1981 al 25 dicembre 1987 questa serie animata anche se pesantemente rimaneggiata nei nomi dei personaggi e nel numero degli episodi venne trasmessa in buona parte del mondo tra cui italia india spagna portogallo cile ecuador e corea del sud ovviamente colonna portante dei primi anni del sunday fu anche il maestro osamutezuka con opere come dororo pubblicata nel 1968 ma di lui vi ho parlato ampiamente nel primo episodio oltre che nei video mensili dedicate alle opere della sua carriera quindi eviterò di farlo in questa sede inizialmente shonen magazine non ebbe serie di grandissimo successo come la rivale di casa shogakukan che settimanalmente vinceva la guerra fra le riviste per ragazzi la fama di shonen magazine inizia ad espandersi esponenzialmente dalla metà degli anni 60 nel 1966 debutta una serie che sarà una delle opere di punta della rivista sino al 1971 e che diventerà di culto tra i giapponesi kyoji noshi la stella dei giants è uno spokon manga sportivo sceneggiato dal leggendario ikki kajiwara e disegnato da noboru kawasaki ikki kajiwara all'anagrafe asaki takamori nato a kitakyushu il 4 settembre 1936 sviluppa sin da piccolo un carattere scontroso ed irruento secondo le parole di suo fratello minore asaki era una fusione dei geni della famiglia paterna di indole intellettuale e di quella materna che aveva un temperamento più intenso già durante le elementari il bambino litiga spesso con i compagni e con loro si azzuffa continuamente tanto che i suoi genitori furono costretti a farli cambiare scuola dopo la fine della guerra la famiglia si trasferisce a kawasaki ma le cose per takamori non migliorano tanto che comincia a dedicarsi di frequente a piccoli furti nei negozietti vicino la stazione terminata la frequentazione tra virgolette delle scuole il ragazzo adotta lo pseudonimo ikki kajiwara ed inizia a scrivere romanzi aventi come tema centrale la box nel 1953 a 17 anni ne invia uno chiamato kikage no kikuni alla rivista shonen gao dove vince la selezione nei racconti dei lettori il ragazzo continua a scrivere diversi romanzi ma è proprio in quel periodo che nelle riviste la narrativa comincia a lasciare sempre più spazio ai manga grande estimatore di tutte le discipline sportive di combattimento scrive un romanzo su enrique dosan pioniere del puro resu il pro wrestling giapponese con il quale strinse anche amicizia che gli valse una chiamata da parte di un redattore di weekly shonen magazine che voleva trasformarlo in un manga fu proprio quest'opera chiamata champion futari a segnare il debutto nel mondo dei manga di ikki kajiwara questo fumetto sul mondo del wrestling debutta su shonen magazine nel 1962 e viene anche adattato per un dramma televisivo l'opera piace al pubblico e alla redazione della rivista sulla quale viene pubblicata anche la serie successiva dell'autore kyoji no hoshi l'opera narra le vicende di hoshi tetsu un promettente giovane giocatore di baseball che come moltissimi suoi coetanei punta a diventare un giocatore professionista ed entrare nella squadra dei giants il periodo per lui non è però certamente propizio ci troviamo nei primi anni 40 e il fantasma della seconda guerra mondiale aleggia sul giappone proprio quando il tetsu riesce finalmente a realizzare il suo sogno e debuttare come professionista arriva per lui la chiamata alle armi in guerra si ferirà molto seriamente ad una gamba e ad una spalla e questo comprometterà seriamente il suo stile di gioco il ragazzo per ovviare a questo inventa un lancio a effetto tanto efficace quanto pericoloso e proprio per questa pericolosità viene estromesso dalla squadra sarà per lui l'inizio di una parabola discendente in cui comincerà ad oziare e ubriacarsi senza sosta come se non bastasse sua moglie che si sottoponeva a massacranti viaggi per barattare qualche vecchio vestito in cambio di riso e qualche patata oltre a dover accudire i due loro bambini a kiko e hyuma per la troppa fatica si ammala e muore poco dopo il tezzo a quel punto decide di diversare tutti i suoi sogni infranti nel piccolo secondo genito hyuma che sottoporrà ad allenamenti massacranti nonostante sia ancora un bambino come indossare una pesante imbracatura di ferro per potenziare la muscolatura o utilizzare sempre la mano sinistra sia per lanciare la palla che per mangiare nonostante il piccolo sia destrorso il successo di kyojinoshi fu incredibile tanto che gli vennero dedicate ben tre serie animate tutte prodotte da tms per un totale di ben 257 episodi i piccoli lettori giapponesi si affezioneranno subito ai personaggi e a quelli che diventeranno i punti peculiari della narrativa di kajiwara si identificavano in loro grazie al fatto che la storia si sviluppava su uno sfondo socio economico molto realistico e ben delineato quello del giappone nel dopoguerra che veniva dipinto come una nazione in grande sviluppo ma che in realtà soffriva ancora in larga parte miseria e degrado questa voglia di rivalza che i giapponesi covavano dentro di loro viene incanalata dalle gesta sportive dei protagonisti gli atleti compiono azioni esasperate fino all'inverosimile come curvare mazze da baseball palloni da calcio o mascelle di malcapitate avversari sul ring quasi sempre sono mossi da uno spirito di competizione ossessivo quasi paranoico tanto da renderli schiavi dello sport stesso senza che nella loro vita ci sia posto per altro cosa che rispecchia la dedizione insita nel popolo nipponico che fosse verso il proprio padrone all'epoca dei samurai o verso la propria azienda in tempi più recenti anche nel fallimento viene comunque esaltata la forza d'animo dei protagonisti che non si dichiareranno sconfitti se non davanti alla morte e andranno avanti fino allo sfinimento nelle loro battaglie sportive che simboleggiano le prove e la durezza della vita in più spesso era presente anche una componente introspettiva che caratterizzava in particolare il protagonista e l'antagonista principale tutto ciò andava a cementificare l'attaccamento dei lettori a questi personaggi che immaginavano quasi come se fossero dei loro amici o fratelli esaltandosi per le loro vittorie e piangendo per le loro sconfitte fu così anche per tiger musk conosciuto in italia come l'uomo tigre pubblicato a partire dal 1968 prima su bokura magazine per poi essere trasferito su shonen magazine nel 1970 dove resterà fino alla conclusione nel 1971 l'opera scritta da kajiwara ed illustrata da naoki tsuji narra la storia di naoto date un orfano cresciuto dopo la fine del secondo conflitto mondiale il suo spirito combattivo si desta quando un giorno visita lo zoo insieme ai compagni di orfanotrofio qui vede una gabbia con delle tigri e decide di voler diventare forte come questi impressionanti felini per poter combattere le ingiustizie che vengono rivolte agli orfani come lui come fosse mandato dal destino il ragazzo trova sulla sua strada un emissario di tana delle tigri una perfida e oscura associazione che raccoglie e addestra ragazzi da tutto il mondo per farli diventare feroci lottatori di wrestling il ragazzo segue l'uomo sin sulle alpi dove assede l'associazione e qui trascorre i successivi dieci anni della sua vita sottoponendo il suo fisico e la sua mente ai più devastanti allenamenti che l'uomo possa concepire una volta adulto naoto comincia a lottare come insegnato di tana delle tigri ovvero nel modo più feroce possibile e si costruisce una pessima reputazione di lottatore sanguinario in america dove viene ribattezzato yellow devil il diavolo giallo una volta tornato in patria l'uomo trova un giappone ancora gravemente piegato dagli effetti sull'economia e non solo del dopoguerra e tornato a visitare quello che un tempo era l'orfanotrofio dove viveva decide di non rispettare più le regole di tana delle tigri che volevano che ogni lottatore suo affiliato versasse loro vita natural durante metà dei suoi profitti pena essere considerato un traditore degno di terribili punizioni l'uomo comincerà invece a donare i soldi guadagnati con gli incontri non più all'associazione ma proprio all'orfanotrofio e dopo aver saldato un pesante debito che l'istituto aveva contratto con uno strozzino comincia anche a lottare lealmente per non influenzare negativamente i suoi giovani ammiratori da qui in poi vedremo naoto tiger mask alle prese con i più tremendi sicari di tana delle tigri che emette il tassativo ordine di trovarlo ed ucciderlo sul ring il successo di questo manga portò alla produzione di ben tre serie animate per la televisione tutte prodotte da toei animation la prima nel 1969 la seconda nel 1981 ed una terza tiger mask w uscita nel 2016 nel 2013 uscì anche un film live action dedicato a quest'opera non solo addirittura un lottatore professionistico di successo satoru sayama legò il suo nome all'opera di kajiwara interpretando proprio tiger mask durante la sua carriera di gran successo l'attaccamento affettivo provato dai lettori verso questi personaggi carismatici compie un ulteriore passo avanti nel marzo del 1970 quando centinaia di persone si vestirono al lutto ed andarono davanti alla sede della kodansha per partecipare al funerale di uno dei loro personaggi preferiti quel personaggio era parte di un'opera che sarebbe diventata leggendaria nonostante sia kyojin no oshi che tiger mask furono dei più che ottimi successi pochi altri manga ebbero l'impatto di ashita no joe joe del domani questa straordinaria opera conosciuta in italia come rocky joe è un'opera partorita dalla mente di ikiki e messa su carta grazie ai disegni di tetsuya chiba un altro nome che si legherà particolarmente al manga sportivo pubblicata su shonen magazine dal primo gennaio 1968 al 13 maggio 1973 l'opera narra l'epopea di joe yabuki un giovane orfano sbandato che si muove nei bassi fondi di un giappone ancora alla deriva cercando in tutti i modi legali o meno di sopravvivere ciò che più aiuta joe in questo compito è la forza dei suoi pugni che il ragazzo non esita ad usare di frequente azzuffandosi a più non posso questa incredibile forza dentro di lui viene presto notata da un ex pugile ubriacone che vive nello stesso malfamato quartiere di joe danpei tanghe questo il nome dell'uomo vede in joe una vabbola di sfogo e riversa in lui i suoi sogni di gloria infranti con molta riluttanza joe che nel frattempo entra ed esce dal carcere minorile accetta di farsi allenare da tanghe e tra lacrime sangue e sudore inizierà la sua scalata verso quello che sembra un sogno impensabile e totalmente irraggiungibile per una persona dai suoi precedenti arrivare ad un incontro per il titolo mondiale di box è proprio il riformatorio che inizierà l'allenamento di joe grazie a delle lettere spediteli da tanghe intitolate per il domani non solo dietro le sbarre joe conoscerà anche due persone fondamentali per la sua crescita personale nishi che inizialmente lo accoglierà in malo modo e che poi diventerà il suo migliore amico e soprattutto toru rikishi un ragazzo più grande ed eccellente pugile che scatenerà definitivamente la fiamma della competizione dentro joe che da lì in poi punterà a rikishi come metro di paragone per la sua crescita sportiva i due saranno protagonisti di una delle amicizie barra rivalità più profonde e toccanti della storia del manga il successo dell'opera portò alla produzione di due stagioni anime prodotte dalla casa di produzione di osamu tezuka la mushi productions e diretta dal leggendario regista osamu de zaki la prima andata in onda dal 1970 al 1971 in 79 episodi e la seconda dal 1980 al 1981 in 47 episodi in occasione poi del cinquantesimo anniversario di ashita no joe nel 2018 venne creata una nuova serie animata adesso ispirata chiamata megalobox e prodotta da tms entertainment in 13 episodi ashita no joe ebbe un impatto sociale mai visto prima in giappone tanto da portare come abbiamo visto i fan a celebrare il funerale di uno dei personaggi dell'opera ma non solo joe per la sua caparbietà e la solida volontà di non mollare mai davanti a nessuna difficoltà che la vita li metteva davanti venne preso a modello dagli studenti che si battevano all'interno delle contestazioni studentesche della fine degli anni 60 a proposito del personaggio da lui disegnato tetsuya chiba disse joe è un personaggio sincero si mette totalmente in gioco c'è una sola cosa che vuole fare bene nella vita e cerca di ottenerla anche quando può sembrare impossibile e nonostante tutti i suoi limiti queste qualità sono molto care ai giapponesi altamente simbolico fu un episodio accaduto quando dei membri dell'esercito rosso giapponese gruppo terroristico creatosi sulla scia dei moti studenteschi del 1968 mentre dirottavano un aereo affermarono siamo joe del domani se da una parte la crudezza e le scene realistiche che facevano sentire ogni pugno dei contendenti infiammavano i cuori dei giovani lettori di shonen magazine dall'altra attirarono gli sguardi del consiglio governativo per le politiche giovanili che dal 1967 causa il crescente successo del gekiga vi rimando al secondo episodio della storia del manga per approfondire aveva iniziato a stilare una lista nera in cui finivano i manga più oltraggiosi violenti e comunque ritenuti nocivi per i giovani giapponesi addirittura gli autori ricevono una visita da parte di alcuni ufficiali che indagavano su ashita no joe e a causa di queste pressioni la serie viene portata ad una prematura conclusione nel 1973 un'altra opera di grandissimo successo pubblicata nello stesso periodo su shonen magazine fu gegege no kitaro di shigeru mizuki di cui vi ho parlato nel primo episodio proprio grazie a queste serie in cui i lettori si identificavano tantissimo shonen magazine inizia a battere regolarmente la tanto odiata rivale shonen sunday nelle vendite settimanali infatti dalle 205 mila copie del primo numero la rivista di kodansha arriva a vendere nel 1968 un milione 200 mila copie che si attestano sul milione e mezzo nel 1970 un altro motivo è che la rivista di kodansha iniziò a proporre opere dal taglio più adulto ed una delle maggiori rappresentanti di questo fu devilman capolavoro indiscusso di go nagai l'autore nato kiyoshi nagai il 6 settembre 1945 a wajima prefettura di ishikawa inizia a lavorare nel mondo dei manga a partire dal 1965 collaborando con shotaro ishinomori e nel 1967 pubblica la sua opera di debutto maekashi porikiki l'anno successivo pubblica la sua prima serie di successo su una rivista nata da poco e di cui parleremo nei prossimi episodi ovvero weekly shonen jump di shueisha l'opera si intitola arenchi gakuen scuola senza pudore e nonostante non siano presenti scene di sesso esplicito viene spesso ricordata come il primo manga erotico dell'era moderna protagonista è yazoachi yamagishi un ragazzo a capo di un'organizzazione malavitosa nonostante la giovane età ma comunque puro di cuore nell'opera erano presenti molti elementi violenti scene di nudo ed umorismo volgare e tutto questo diede vita alla prima grande controversia tra nagai e l'associazione genitori e insegnanti giapponese questa ondata di critiche e proteste raggiunse una tale intensità da convincere l'editore ad interromperne la pubblicazione dopo quattro anni questo però non ferma il successo di pubblico e dalla serie verranno tratti ben 5 film live action tra il 1970 e il 1996 un telefilm in 26 episodi tra il 1970 ed il 71 uno av nel 1996 oltre a tre seguiti manga nel 1994 2003 e 2007 nel 1970 go nagai fonda la sua casa di produzione la dynamic production e l'anno seguente pubblica sulla rivista bucura magazine di kodansha mao dante in questo manga vediamo venire alla luce molti dei temi che saranno cari a larga parte della sua produzione come l'horror e l'esoterismo la trama segue le vicende di un gruppo di occultisti che agiscono nell'ombra con l'intento di far rivivere un potentissimo demone del passato noto come dante nello stesso periodo nella città in cui si svolge l'opera un serial killer uccide vittima dopo vittima con una brutalità inaudita strappando loro il cuore rio utsugi è un ragazzo tormentato da incubi e che sente nella sua testa le voci strazianti delle vittime del serial killer oltre a vedere delle strane ombre che lo seguono di notte rio ed il gruppo di occultisti vengono in contatto quando questi rapiscono come vittima sacrificale scelta per il risveglio del demone dante proprio sua sorella saori è da questo incontro che partirà una tremenda lotta tra umani e demoni nagai rivelò che una delle maggiori ispirazioni per creare la mitologia all'interno di mao dante che diverrà anche la mitologia con cui tutti riconoscono quest'autore fu l'edizione della divina commedia illustrata dal grande pittore francese gustave doré che aveva letto da piccolo purtroppo però la rivista su cui mao dante veniva serializzato viene chiusa e l'opera resta incompleta di contro questo permetterà a nagai di riprendere le stesse tematiche per l'opera successiva di cui mao dante verrà visto come l'embrione l'autore era attivo anche nel settore dell'animazione e stava scrivendo una serie per la toei doga con protagonista un essere che era la fusione tra un uomo e un demone a supporto di questa serie viene creato anche un manga che verrà pubblicato su weekly shonen magazine dall 11 giugno 1972 al 24 giugno 1973 e raccolto successivamente in 5 tankobon devilman è il nome di questo manga che si distacca quasi completamente a livello estetico dalla controparte animata basata su un'iconografia più vicina ai supereroi che venivano dall'america l'opera narra l'epopea di akira fudo e del suo caro amico rio asuka un giorno rio rivela ad akira una scoperta fatta dal suo padre un famoso archeologo ovvero una stranissima maschera dall'aspetto demoniaco che mostra a chi la indossa un vero e proprio scenario infernale akira rimane sconvolto da queste orrende e realistiche visioni che i due scopriranno presto essere immagini reali da un lontano passato in cui a dominare la terra prima dell'arrivo degli umani erano dei demoni spaventosi secondo le ipotesi di rio questi demoni adesso sono in procinto di tornare in azione per reclamare quello che pensano spetti loro di diritto ovvero abitare la terra come legittimi proprietari del pianeta sempre secondo rio l'unico modo per contrastarli è fondersi con essi in modo da poterli combattere ad armi pari proprio per questo coinvolge il suo amico in un mefistofelico rituale sabbatico a base di droghe alcol e promiscuità sessuale in modo da richiamare i demoni che nel frattempo stanno iniziando ad attaccare gli umani e talvolta fondersi con essi destino vuole che akira un giovane gentile e di buon cuore si fonda proprio con amon tra i demoni il più temibile e potente il suo spirito puro e l'amore innocente che prova per la sua amica michi saranno le armi che permetteranno ad akira di mantenere la sua umanità e provare a contrastare la strapotenza dei demoni quest'opera intrisa di dramma e critica sociale oltre a temi quale le religioni diventerà uno dei manga più iconici e rappresentativi a livello mondiale lanciando prepotentemente gonagai nell'olimpo dei mangaka oltre all'anime originale l'opera godrà negli anni di adattamenti in oavu spin off e remake manga oltre ad una nuova serie animata adesso ispirata e diretta dal grande regista contemporaneo masaki yuasa andata in onda nel 2018 su netflix è chiamata devilman crybaby a differenza della serie animata classica questa volta molto più fedele alla controparte cartacea proprio a seguito del successo riscosso da shonen magazine con opere più mature quali devilman che vale alla rivista il sorpasso nelle vendite shonen sunday tenta un cambio di direzione e propone negli anni 70 manga più drammatici come ad esempio le opere di george akiyama mangaka che farà avanti e indietro tra le due riviste nato yuji akiyama il 27 aprile 1943 a nippori tokyo akiyama sarà uno tra i mangaka più controversi della storia durante la seconda guerra mondiale la sua famiglia viene fatta evacuare e si trasferisce nella prefettura di tochigi disegna sin da bambino e crea i suoi primi rudimentali manga durante il secondo anno di scuola media dopo aver abbandonato gli studi si trasferisce a tokyo per inseguire il suo sogno di entrare nel mondo del manga ed inizia a lavorare per un negozio di manga a prestito dopo qualche visita alla kodansha in cerca di lavoro un editor gli presenta il mangaka kenji morita al quale farà da assistente per un anno e mezzo e nel mentre pubblica la sua prima opera kai kotsu kun su shonen magazine l'opera un gag manga genere di gran successo in quel periodo va abbastanza bene e l'autore crea negli anni successivi altri manga dello stesso filone come zankoku baby oro fuki don don o patman x quest'ultima vince il kodansha manga award nel 1968 nella categoria manga per bambini il 1970 porta per la sua carriera un drastico cambio di registro con la pubblicazione su shonen magazine di ashura le intenzioni sono dichiarate sin dal primo capitolo dove vediamo una donna praticare cannibalismo e provare poco dopo a divorare il suo stesso figlio a causa di questi forti contenuti il numero di shonen magazine che conteneva questo primo capitolo di ashura quello del 2 agosto 1970 fu vietato in tantissime zone del giappone e l'avvenimento costò ad akiyama il marchio di infamia da parte di una larga fetta dell'industria del manga a causa di ciò akiyama decide di cambiare aria e si sposta sulla rivale shonen sunday dove inizia nel 1971 la serializzazione di koku aku confessioni opera assurda dove l'autore in ogni capitolo confessa qualcosa come ad esempio di essere un assassino salvo poi rivelare che la confessione fosse solo una bugia nel capitolo della settimana successiva ancora sul sunday pubblica dal 70 al 71 zenigeba la storia di un ragazzo chiamato futaru gamagori che vive in una condizione di estrema povertà e che inizia compiere una serie di omicidi questo manga uscì poco dopo i moti studenteschi giapponesi e questi erano rappresentati sullo sfondo della vicenda umana del protagonista l'enigmatico titolo dell'opera è composto dalle parole zeni che in giapponese vuol dire soldi e geba che significa gewalt ovvero potere in tedesco così da formare un connubio che suona come potere dei soldi l'opera verrà adattata in un tv drama nel 2009 senza essere purtroppo mai granché conosciuta fuori dai confini nipponici la carriera di akiyama proseguirà tra alti e bassi cambiando continuamente editore infatti il crescente successo di shonen sunday e di shonen magazine portò negli anni 60 ad un'enorme proliferazione di riviste manga settimanali con una sfilza di accattivanti nomi di derivazione inglese tanti editori si buttano su questo fertile mercato rivolto ai ragazzini giapponesi shonen gaosha pubblica shonen king e akita shoten lancia shonen champion ma a rivoluzionare completamente questo mondo sarà una rivista creata da shueisha editore nato come costola di shogakukan ovvero weekly shonen jump ma di questo parleremo nei prossimi episodi ultimo mangaka di cui parleremo oggi ma non certamente ultimo per importanza è shotaro ishinomori che verrà ricordato come il re del manga all'anagrafe shotaro onodera nasce il 25 gennaio 1938 a tome prefettura di miyagi e si farà conoscere con il nome d'arte di shotaro ishimori per poi cambiare ancora una volta dopo essersi sposato nel 1986 in shotaro ishinomori da piccolo sogna di diventare un regista ma si avvicina al manga quando vede i disegni di sua sorella maggiore la scoperta di shin takarajima del maestro tezuka lo convince ancora di più che quella è la sua strada e da allora diventa un grande fan del mangaka di takarazuka durante le scuole medie realizza diversi fumetti amatoriali venendo anche selezionato dal giornale della scuola continua a disegnare manga e mentre frequenta le scuole superiori fonda un gruppo di studio sul manga il suo debutto avviene su manga shonen nel 1954 grazie ad una raccomandazione dello stesso tezuka con l'opera nikyu tenshi le avventure dell'angelo di seconda classe opera largamente ispirata ai lavori di tezuka stesso nel caratter design ma che mostrava già alcune particolarità e guizzi di genio da parte di shinomori come un mix di tavole cinematografiche ed altre più cartonesche e l'uso di un disegno a volte morbido e rotondo e altri realistico nel 1956 si sposta da miyagi a tokyo dove diventa assistente di tezuka durante questo periodo lavora molte opere del maestro tra cui astro boy nuovamente su manga shonen pubblica nel 1957 la sua seconda opera chiamata ryujin numa lavora anche nel campo dell'animazione e nel 1969 adatta per il grande schermo un'opera che aveva pubblicato nel 1960 soratobu yureisen la nave fantasma volante nel cast della pellicola troviamo anche un giovane a yaomi azaki nel 1963 crea il primo gruppo giapponese di eroi dotati di superpoteri ovvero cyborg 009 l'opera ha una vita editoriale quanto meno particolare essendo stata pubblicata nel tempo su una moltitudine di riviste quali shonen king shonen magazine shonen big comic com shoujo comic shonen sunday comic nora e shonen jump il fumetto è incentrato su nove persone provenienti da ogni angolo del pianeta che vengono rapite dalla temibile e cattivissima organizzazione dei fantasmi neri capeggiata dal tirannico leader teschio i fantasmi neri rapiscono queste nuove persone per condurre su di loro esperimenti che li porteranno ad essere armi umane e per iniziare una nuova guerra utilizzando i cyborg l'esperimento riesce e i nove vengono trasformati con successo in cyborg ma prima che possano compiere qualsiasi azione malvagia trovano aiuto nel dottor isaac gilmore che pentito permette loro di scappare ribellandosi all'organizzazione da quel momento in poi la ragione di vita dei nove potentissimi cyborg sarà fermare teschio e la sua organizzazione dall'intento di scatenare una nuova guerra mondiale a partire dal 1969 ishino mori pubblica su shonen magazine quella che definisce come prima parte di una trilogia e di uno amici la strada di riu è infatti la prima di tre saghe che avranno come protagonista un ragazzo di nome riu in questo primo episodio dedicato al mondo del futuro vediamo il ragazzo imbarcarsi come clandestino su un razzo partito per una missione spaziale di ricerca riu viene però scoperto quasi subito e questo li costa l'ibernazione sino alla data prevista per il rientro sulla terra al suo risveglio si trova di fronte uno spettacolo agghiacciante tutti i membri dell'equipaggio sono infatti deceduti sembra colpiti da un virus spaziale non solo appena mette piedi fuori dalla navicella riu scopre di essere su un pianeta totalmente sconosciuto completamente ricoperto da una fitta vegetazione ed abitato da temibili animali e piante assassine il ragazzo si mette quindi subito alla ricerca con la speranza di trovare altri superstiti ma quando incontra due giovani fratelli scopre la terribile verità il pianeta su cui si trova è infatti la terra apparentemente devastata durante il suo lungo sonno da una guerra nucleare che pare abbia lasciato pochissimi superstiti l'opera successiva della trilogia genshi shonen riu riu il ragazzo primitivo è invece ambientata nel passato ed è stata pubblicata sul settimanale shonen champion di akita shoten nel 1971 in questo capitolo della saga siamo in un villaggio tribale dove un giorno nasce riu un bambino bianco a differenza degli altri abitanti del luogo questo viene letto come segno di sventura e pertanto viene deciso di sacrificarlo ad un terribile tirannosauro che semina terrore nei pressi del villaggio fortunatamente riu riesce a scamparla grazie ad un primate che lo salva dalle grinfie del tirannosauro e lo alleva sino all'adolescenza quando il ragazzo decide di tornare tra gli uomini spinto dalla volontà di cercare la sua vera madre impresso su di lui però rimarrà sempre il marchio maledetto legata alla sua pelle bianca che attirerà non solo le irie del tirannosauro che non smetterà mai di dargli la caccia ma anche di tutti o quasi coloro che incontrerà sulla propria strada nuovamente su shonen champion vede la luce la terza ed ultima parte di questa trilogia questa volta dedicata al presente ovvero bancio wakusei pianeta bancio pubblicato sulla rivista di akita shoten dal 1975 al 1976 essendo questa storia ambientata nel presente troviamo subito riu a scuola impegnato in una rissa con degli studenti rivali per sfuggire loro il nostro protagonista si nasconde nella fessura di un grande albero al tempio di inari qui trova un tunnel apparentemente infinito attraversandolo il ragazzo viene colpito da alcuni particolari eventi come vedere la propria ombra ma dopo un po sembra riuscire ad uscirne normalmente trovandosi di nuovo al tempio ma le cose non sono affatto come le aveva lasciate per le strade sono di pattuglia dei poliziotti robot e la prima scena che il ragazzo vede è terrificante infatti questi poliziotti non esitano a sparare ad un uomo a sangue freddo non solo gli animali hanno un aspetto totalmente diverso da come se li ricordava e il cielo è solcato da strani apparecchi simili agli ufo tutto lascia quindi presupporre che ryu sia finito in un universo parallelo o qualcosa di simile ishinomori scomparso il 28 gennaio 1998 non verrà ricordato solo come uno dei più grandi mangaka della storia entrando anche nel guinness dei primati come maggior numero di tavole prodotte ben 128.000 infatti il sogno che covava da bambino di diventare regista verrà parzialmente realizzato quando diventerà di fatto il creatore di un genere televisivo che cambierà per sempre la storia della tv giapponese l'autore sarà infatti la figura chiave grazie alla quale esploderà il successo dei super sentai filone televisivo che si inserisce nell'ambito dei tokusatsu traducibile letteralmente come effetti speciali per citarne solamente due dato che per un discorso più approfondito ci vorrebbe un video a parte di qualche ora ishinomori creò kamen rider progetto cross mediale di serie tv manga e molto altro e la serie dei super sentai che poi originò prima negli stati uniti e poi in europa il colossale fenomeno dei power rangers se le origini di questa particolarissima forma d'arte nipponica vi incuriosiscono vi consiglio di guardare l'episodio dei giocattoli della nostra infanzia dedicato proprio ai power rangers disponibile su netflix e anche per questo video è tutto spero che vi sia piaciuto e se così fosse vi chiedo di lasciare un like condividerlo sui social ed iscrivervi al canale attivando le notifiche per non perdere nessun video nel prossimo episodio della serie vedremo l'evoluzione delle riviste dalla nascita della mitica weekly shonen jump fino ai gloriosi anni 80 noi ci vediamo alla prossima e ciao